Dopo il bravissimo Nobunari Oda, questa dovrebbe essere probabilmente mamma Joubert perché viene continuamente inquadrata, io purtroppo non la conosco, Brian Joubert, ha 21 anni, le musiche sono quelle di Matrix, è già stato campione europeo, a livello mondiale una medaglia d'argento nel 2004, è terzo dopo il corto e le qualifiche. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.